Due squadre giovani, forti e ben messe in campo. Le premesse di Montesilvano, il Delfino Curi-Pescara sono di alto spessore. Sette punti nelle ultime tre partite per la formazione di Antignani con il consueto duo Marrone-Petito in avanti. Tre vittorie consecutive per gli ospiti di mister Bonati che puntano sull'esplosività di massa per agguantare il successo. Fischia Marchetti dell'Aquila. Inizio sull'acceleratore con il Delfino che conquista dopo pochi secondi il pallone e tenta il diagonale con Gobbo Carrer fuori di poco alla destra di Ubertini. Risponde il Montesilvano con il cross di Marrone per il colpo di testa di Petito Alto. Fase centrale avara di emozioni con gli ospiti maggiormente dentro la partita. Alla mezz'ora annullato il gol dell'1-0 per un fuorigioco di Petito sullo spiovente di Majorani. Si riaffacciano in avanti i portuali. Scambio Marzucco-Rosini per Gobbo che testa i riflessi di Ubertini. Ultima occasione del primo tempo sul destro di Mario Petito. Calore blocca senza problemi. Nella ripresa il Delfino continua ad avere il pallino del gioco e passa in vantaggio. Vola Falco sulla destra. Parabola non letta bene da Ubertini e la difesa sul secondo palo. Massa deve solo appoggiare in porta. 1-0 e quinto centro in campionato per l'esterno di Mister Bonati. Il Montesilvano arranca una reazione ma il mancino di Luca Marrone non è né potente né preciso. Il Delfino tenta di pervenire a raddoppio. Rosini e Di Giovacchino mancano l'appuntamento col gol. Si accende la stella di Tommaso Lupinetti. Bolide che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta Marrone non riesce a spingere il pallone e si lamenta per una possibile spinta. Pochi minuti dopo è la squadra ospite a lamentarsi per un contatto tra Leonardo Malocu e Rosini non sanzionato dal fischietta Aquilano. Il Montesilvano va a sprazzi ma c'è tanta qualità. Petito disegna un arcobaleno per Marrone che di testa scrive il pareggio e l'1-1 della partita. Quarto centro in campionato per il numero 10 tornato a dicembre per vestire la casacca verde oro. Nel finale opportunità clamorosa per Di Giovacchino con la porta sguarnita. Il classe 2001 non è preciso e cestina l'occasione. Un lampo a testa nel recupero marzucco dei 25 metri da una parte. Il tentativo del Montesilvano con la chiusura efficace di Lupo dall'altra. E' uno a uno al Galileo Speziale un punto a testa per continuare a guardare con fiducia all'obiettivo salvezza. Mister Bonati avete fatto per 70-75 minuti una grande partita. L'avete preparato in questo modo? Cioè andando a colpire il Montesilvano pressando alti e soprattutto essendo pronti sulle seconde palle? Sì. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Il risultato è un po' stretto. Anche perché dopo l'1-1 abbiamo avuto due o tre occasioni ancora per rifare gol. Però considerando anche il partito col Capistrello e le ultime partite credo che sia corretto non aver vinto tutte e due le partite perché col Capistrello abbiamo raccolto un pochino di più di quello che avremmo meritato. Mi dispiace perché la partita è anche girata per alcuni episodi controversi che non hanno dimostrato una grande personalità nella gestione della partita. È successo col Capistrello mercoledì e ho evitato di parlare. È successo oggi un'altra volta. Sinceramente bisogna avere più personalità. Quando le squadre vanno in vantaggio fuori casa possono anche vincere la partita. Non è che la devono pareggiare perché uno lo spinge. Si riferisce ad alcuni falli al centro campo? Assolutamente. Ma tanti falli loro in ripartenza non puniti con l'ammunizione e tante situazioni dubbi nel momento in cui si fa in vantaggio. Chissà perché c'è una sorta di legge di spingere la squadra che meritatamente alla fine ha cercato il pareggio e non ha rubato nulla. Però nel calcio gli episodi fanno la differenza e gli episodi devono essere solo relativi alle due squadre. Bisogna avere un po' più di personalità specie su questi campi dove la squadra avversaria è una squadra tenace e forte e l'arbitro deve essere altrettanto tenace e forte come la partita perché la partita è stata molto molto bella. La squadra salvezza è altissima 44-45 punti per cui siamo lontani tutti quanti e dobbiamo guardare partita dopo partita perché sono tutti sconti diretti. Certo sicuramente è un tassello importante perché Montesilvano è una squadra che tutti quanti denigrano ma non sanno invece il loro valore e la battezzano con una certa superficialità. Invece hanno dimostrato di avere giocatori valore, un allenatore preparato, una squadra forte e le chiacchiere stanno a zero. Mister Antignani forse per 70 minuti non il Montesilvano che siamo abituati a vedere però poi una bella reazione dopo il pari. Sì 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 assolutamente. Io devo fare i complimenti innanzitutto alla squadra avversaria perché sono venuti qui a giocare a viso aperto senza chiudersi, ben guidati quindi mi è obbligo a fare i complimenti e faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché di conseguenza andare sotto in casa 1-0 che noi abbiamo un po' questo tabu casalingo. Siamo stati bravi a pareggiare con un grande cross di Petito e grande gol di Marrone. Fermo restando che è stata una partita equilibrata, il pareggio è il risultato più giusto anche perché i portieri non è che hanno fatto chissà quali parate. Quindi io mi tengo il punto stretto perché è fatto contro una signora squadra che sta tre punti sotto di noi con una partita in meno quindi ben venga. Ecco come mai tutta questa fatica nel primo tempo soprattutto sulle seconde palle si è visto un Delfino sicuramente più pronto rispetto a voi. Sì perché come dicevo venerdì grazie a Dio da domani potremo avere una settimana piena di lavoro. Abbiamo giocato noi ripeto noi giochiamo anche con la Viugnores non è una lamentela noi abbiamo giocato pensa che Sammaciccia ha giocato solo Sammaciccia di nomino ha giocato domenica lunedì mercoledì domenica quindi di conseguenza noi non è che abbiamo i giocatori che scendono dalla serie C che sono abituati a fare questo tipo di lavoro. Giustamente paghiamo un pochettino la stanchezza da domani ci rimettiamo a recuperare un pochettino gli acciaccati per arrivare a domenica prossima al meglio delle nostre possibilità.